Musica Bentrovati alla nona puntata di Emozioni di Neve, la rubrica settimanale del comprensorio Ponte di Legno Tonale. La neve, come potete vedere, è arrivata, ce n'è tanta, le piste sono tutte aperte e soprattutto nei fini di settimana c'è molto movimento grazie a numerosi eventi di varia tipologia. Siamo con Alessandro Mottinelli, che cosa ha da offrire il comprensorio Ponte di Legno Tonale a chi vuole passare qualche ora su itinerari al di fuori delle piste battute? Abbiamo alzato il sipario sul pian di neve in condizioni veramente belle, quindi tanta neve. Devo dire che anche le giornate di sole hanno favorito l'assestamento del manto, per cui ci sono delle buone condizioni e per questo è iniziato il periodo dello scialpinismo con lo ski pass per gli scialpinisti. Quindi con 20 euro si può partire da Ponte di Legno, risalire fino a Passo Presena, si fa tutto quello che si può fare sul pian di neve e poi si scende dal magnifico Pisgana, mi raccomando sempre attenzione, si arriva a Ponte di Legno in Valsozzine, si risale con la seggiovia e si ritorna alla macchina. Per cui un giro completo, una giornata meravigliosa. A breve, a fine mese, apriranno anche i rifugi Mandrone e Lobbia, per cui chi vuole prendersela un po' più in calma oppure fermarsi per una pasta asciutta e poi riprendere sicuramente sarà un'occasione ancora più ghiotta. Io penso che quest'anno le condizioni siano veramente d'oro e speriamo di vedere tantissimi scialpinisti sul pian di neve e in Adamello. Quali sono gli altri itinerari, fattibili in poche ore o in più giornate? Il pian di neve è molto grande, al di là dei percorsi classici che sono il Pisganino, che è vero si può fare in giornata, ma mi piacerebbe che la gente scoprisse anche tante parti, magari un po' meno esplorate. Si può dormire alla Lobbia e poi fare il passo del Cavento e andare verso il Lare, oppure scoprire proprio quelle parti che richiedono più ore e magari più giorni. Questo è il vero scialpinismo, quindi tornare dopo una bella gita al rifugio, godersi le terrazze sia del Mandrone sia del rifugio Lobbia, sicuramente è questo quello che noi vogliamo proporre. Cresta Croce è magnifica, adesso andremo a vedere in che condizioni è, non siamo ancora saliti a vedere, probabilmente saliremo nei prossimi giorni. Ecco, è un percorso alpinistico, quindi Cresta Croce va affrontata con imbraghi, con una corda, con tutto quello che serve per potersi mettere in sicurezza. Ricordatevi, quando ci sono le competizioni ci pensiamo noi, ma quando il pian di neve, la damello, Cresta Croce non sono attrezzate, ognuno deve sapere badare a se stesso, quindi è molto importante essere attrezzati, oltre che con arvola, pale e sonda, anche con i ramponi se servono e con tutta l'attrezzatura che può garantire la sicurezza in caso di percorsi su cresta o ghiacciati. Ecco, il grande appuntamento quest'inverno è quello con la damello Ski Ride del 7 aprile. Sono già arrivate un po' di iscrizioni, c'è posto ancora però? Sì, c'è stato subito un boom di iscrizioni, siamo quasi a 200 squadre iscritte su 350. La cosa che ci ha sorpreso di più è stato che tra le prime iscrizioni è arrivata subito quella di Kilian, quindi credo che il top dello scialpinismo già sia in prima linea, aspettiamo adesso ovviamente tutti gli altri, anche tante squadre femminili, questo ci fa molto piacere, ricordiamo che per le ragazze abbiamo una partenza speciale, è una partenza in rosa da Passo Paradiso, quindi risparmiamo i primi mille metri di dislivello, ma non per questo la gara è più facile per le ragazze, il percorso poi inizia sicuramente da quando da Passo Presena ci si butta nello splendido panorama del ghiacciai della damello. Abbiamo parlato degli atleti però ha un ruolo molto importante anche il pubblico. Sì, quest'anno sperando in una giornata come oggi puntiamo molto sul pubblico, quindi lo coccoleremo con un programma dedicato, con degli orari che garantiranno la possibilità di vedere gli atleti e i passaggi più significativi, avremo sicuramente qualche gadget per tutti quelli che saliranno la mattina, ricordo che dalle 5.30 alle 7.30 gli impianti che salgono fino a Passo Presena sono aperti gratuitamente per tutti quelli che vorranno applaudire sia alla Damello Ski Ride Stadium a Passo Presena 3.000 ma anche per i veri scialpinisti lungo il percorso per applaudirli anche quando i concorrenti sono un po' più stanchi, questo fa molto piacere. Quindi aspettiamo veramente tanto tanto pubblico perché per noi sono importanti tutti quelli che vengono ad assistere tanto quanto quelli che vengono a gareggiare. Anche lo snow park è aperto, quest'anno abbiamo creato due linee separate che percorrono tutta la lunghezza della pista valena. Una linea più facile per imparare i primi salti e i primi slide sulle strutture e una linea media dove si può progredire in totale sicurezza. Lo ski cross è stato perfezionato con paraboliche ed è perfetto per imparare a gestire lo sci e lo snowboard in terreni non lineari. Oltre alle gare di ski cross regionali e nazionali giovanili di sci e snowboard, quest'anno lo snow park ospita anche la Triveneto Cup, un circuito di gare freestyle per gli under 14. Sono sempre molti gli eventi che si susseguono nei fine settimana sulle piste di Ponte di Legno Tonale. Vi do come sempre qualche suggerimento. Questo weekend arriva al Passo Tonale il 4Matic Tour di Mercedes-Benz. Ci sarà quindi la possibilità di ammirare al centro del Passo Tonale tutti i nuovi modelli di questa casa automobilistica. Sarà allestito un villaggio all'interno del quale ci sarà un DJ set e verranno distribuiti vari gadget. Inoltre gli sciatori avranno la possibilità di provare gli sci della Salomon e della Atomic, con oltre 60 paia di sci da poter testare. Sempre sabato e domenica e sempre al Passo Tonale ci sarà lo Ski Kids Yamaha, quindi la possibilità per i bambini di approcciarsi alle motoslitte. Ci saranno degli istruttori che insegneranno ai bambini a guidare in tutta sicurezza le motoslitte. Questo evento è riservato ai bambini di almeno 6 anni, accompagnati da entrambi i genitori. E infine nella sola giornata di domenica ci sarà il Mystic Freeride Demo Test, quindi la possibilità di provare tutti gli sci freestyle e free touring lungo uno dei bellissimi itinerari freeride del comprensorio Ponte di Legno Tonale. Per accreditarsi basta arrivare al Passo Tonale alla mattina, l'evento si svolgerà dalle 9 alle 15, il ritrovo è al centro del Passo Tonale. Naturalmente torna anche l'appuntamento con Ice Music. Questo sabato alle 16 e alle 18 l'ospite sarà Patrizia Lacquidara, una cantante e autrice siciliana. Vi segnalo per quanto riguarda Ice Music che abbiamo programmato una nuova data per la band Radio 80. La prima data infatti quella del 9 marzo, era stata molto gettonata e subito andata sold out, quindi abbiamo fissato anche per il 10 marzo alle ore 15. I biglietti come sempre possono essere acquistati in una qualsiasi delle nostre biglietterie oppure online sul nostro sito www.ponte di legno tonale.com Raggiungerci adesso è diventato ancora più semplice grazie a un'iniziativa in collaborazione con Trenord che ha dato vita al treno della neve. C'è la possibilità quindi tutti i giorni da tutte le stazioni della Lombardia di raggiungere Ponte di Legno Tonale. Il voucher comprende il biglietto per il treno fino alla stazione di Edolo, il biglietto per il bus navetta che porta dalla stazione di Edolo a Ponte di Legno Tonale e lo ski pass che può essere da due o da tre giorni, quindi la variabile è appunto lo ski pass. Il prezzo varia da 83 a 113 euro. Per questa puntata è tutto, io vi ricordo che potete comunque rivedere tutte le nostre puntate sul canale YouTube di Ponte di Legno Tonale. Non mi resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere delle bellissime giornate sulle nostre piste.